Ho pietà di questa folla, ho pietà di voi e il Padre che vi ha mandato a me. Nessuno viene a me se non è il Padre da tirarlo. Io ho parole di vita per voi, io sono il vostro Dio. Il Padre mi ha unto con l'olio dell'unzione ed io sono venuto in mezzo a voi per aprire gli occhi ai ciechi, la lingua ai muti, gli orecchie ai sordi, perché voi vediate, ascoltiate il Figlio di Dio e parlate del Figlio di Dio che è venuto in questo mondo. Io sono venuto a liberare i prigionieri. i miei prigionieri. Sono venuto a liberarvi delle tenebre, delle catene del maligno. Sono venuto a dare la libertà agli schiavi. Io sono il Signore che è venuto sulla terra. Io faccio i cuori spezzati. Io medico tutte le ferite. Io risano tutte le piaghe. Io do l'olio della tizia invece del pianto. Una veste di gioia invece della veste del lutto. Io sono il Signore in mezzo a voi. Cristo che voi aspirate, che voi sognate. Colui che aspettavate. E qui, in mezzo a voi, io il Signore, figlio di mio padre, venite a me. O voi tutti che siete affaticati e stanchi, voi tutti sposati, voi tutti ammalati, venite a me. Ed io vi ristorrò. Io solo, io solo sono la vita. Soltanto in me la verità. Tutti quelli che sono tutti i primi di me sono impostori. Io solo sono il Signore. Il Padre mio vi ha dato nelle mie mani perché io vi liberi, vi consoli e vi riporti al Padre mio. Ascoltatemi, figli. Popolo mio, ascoltami. Io sono il tuo Signore. Non c'è altro Dio all'infuori di Dio del Padre che mi ha mandato. Ed io e il Padre siamo la stessa cosa. Alleluia! Alleluia! Da Lui viene la vita. Questa mattina il Signore è qui con noi e il nostro Dio. Alzate a Lui la voce. Aprite il cuore. Lui ci ascolta. Non diamo riposo a Lui e non diamoci riposo a noi. Come dice la scrittura. Sicuri di ottenere. E' il giorno di grazia. Questa mattina dobbiamo ritornare alle nostre case carichi della Sua benedizione, portatori di pace, di luce e di salute. Alleluia! 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 Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Perché è entrato Gesù. Sono entrato io, dice il Signore. Alleluia! 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 Dove sono i tuoi oppressori? Quelli che detenevano schiavi. Dove sono? Non ci sono più. Perché io li ho sbaragliati. Io il Signore. Dove sono le vostre ferite? Io le ho medicate. Dove sono le vostre ferite? Le vostre piaghe? La mia mano si è posata su di voi. Nei vostri cuori io vi do la mia pace questa mattina. Vi do la mia pace. Vi do la mia gioia. Popolo mio, gioisci nel tuo Signore. Anche che tu dovrai mangiare il pane della tribolazione e bere l'acqua dell'afflizione. Non temere perché il tuo Maestro è in mezzo a te. I tuoi orecchie chiudranno la sua parola. I tuoi occhi lo vedranno. Tu sentirai queste parole. Questa è la strada. Percorretela. La strada della luce. La strada santa. Quasi che possiate andare a destra e a sinistra. No! È la strada dritta. La strada sono io. Nessuno impure entrerà per me. Ma chiunque entrerà per me andrà verso la redenzione. È la strada dei redenti di Israele. Io sono la vostra strada. Venite a me, popolo mio. Popolo schiavo. Io vado avanti a voi. Io sono il vostro pastore. E voi le pecorelle che il Padre mi ha affidato. Amen. Fratelli, il Signore continua e dice Io ho sempre tasciuto. Sono stato in silenzio. Mi sono contenuto. Ma ora griderò come una partoriente. Devasterò montagne e colline. E farò seccare tutta la loro verdura. Trasformerò in steppe i corsi d'acqua. E farò seccare gli stagni. Condurrò i ciechi per vie che non conoscono. Li farò camminare per sentieri ignorati. Cambierò davanti ad essi le tenebre in luce. Le vie storte in vie diritte. Tutte queste promesse le compirò. E non mancherò di attuarle. Saranno volti in fuga. Coperti di vergogna. Quelli che hanno fiducia nei loro idoli. E che dicono alle statue. E voi siete i nostri dei. Fratelli, dobbiamo solo credere alla parola. Credere alla parola. Per questo Gesù è venuto. Perché crediamo alla sua parola. Che è sempre viva. Sempre attuale. E che sempre si compie. Per chi ha fede. Chiediamo la fede nella parola. Fratelli e sorelle, dobbiamo misurare il tempo. Continuiamo la nostra lode a Cristo Gesù che è in mezzo a noi con qualche testimonianza. Poi grideremo a Lui. Perché Lui questa mattina ha le mani piene di grazia per noi. Ma Lui vuole che noi testimoniamo la gloria Sua, la gloria del Padre con il ringraziamento. Chiunque di voi abbia ricevuto una grazia, un tocco del Signore, soprattutto un tocco spirituale, si faccia qui avanti e glorifici il Signore. Qui viene un bigliettino e cominciamo con questo. Gesù ti lodo e ti meredico. Grazie per la forza che mi dai per affrontare le cose. Gesù grazie perché stamattina sono qui alla preghiera. Gesù grazie perché Enzo aveva una cista sulla mano e adesso non ce l'ha più. È sparita. Grazie, Signore Gesù. Grazie a tutti.